In questo video di Minecraft io sono andata a giocare alle Bad Wars con le tre migliori pack a tema natalizio. A proposito di questo raga vi vorrei augurare Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Detto questo andiamo a vedere la prima pack. Dunque raga la prima pack per questo video è la Kringle 16x. Siamo con floppa in questo video. Dunque se c'è una cosa che mi piace un sacco di questa pack è la Hotbar. Non lo so perché ma mi dà proprio quell'idea natalizia proprio al 100%. Anche la fame mi sembra abbastanza creativa e i cuori. Mi piacciono. La spada più o meno. C'è una cosa in realtà rimane molto. E la carica in 7 ore. Sì la spada va bene. Però secondo me le armature sono tipo boh. Le armature avrebbero potuto anche farle meno dettagliate. Il letto è bellissimo. Sì il letto è tipo 3D. Mi piace. Poi anche il mirino di questa pack è particolare. Io lo trovo strano. Perché tu c'hai la mod. Sì perché se no non si giocava. Però secondo me è bellissimo. Ma pure i player secondo me sono in stile natale. Sì i player sono una cosa poco decenti i player. Perché questi qua sono... No il rosso ci rompe il letto. No aspetta. Sono in base eh. Ok ok ok. No 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 l'ho ucciso l'ho ucciso. Ci voleva rompere il letto. Splitto? Io ho raggiunto. No non ha permesso. Ok. Oddio perché l'ha così tanto? Oddio perché l'ha così tanto? Oh. Vabbè. Sarà il Natale. Eh il Natale del regalino il lag. Lì è bellissimo. Allora. Questa qua sembra bella come ti dici. Quindi è un'altra. E' un'altra. Ucciso. E' un'altra. E' un'altra. Eh sì effettivamente. Fai i regalini questa pack. Il regalo sarà una vittoria. Vero? Ma eh. E' speremmo. No che ponte schifoso che hanno fatto. Ma chi che vedi già così? Ti dici? Eh sì sono un po' strani sti tizzi. Stavi per block trapparmi. Ti odio floppa ti odio. Stavi per block trapparmi. Ma sì ma pure te ma. Oh. Dai quello che li ha tutti e due. Gli fai il letto se è speciale. Cioè se gli fai il letto è proprio di Natale. Sì. Qua si fa proprio di Natale. Eh provo anche a ucciderne uno. Se gli fai sei il babbo Natale. Oh. Fatti. No vabbè. Ciao babbo. Oggi ti chiamerò babbo Natale. Ciao babbo Natale. Ciao babbo. Ciao babbo. Ciao ciao. Mamma mia. Ok. Sono in base con undici davanti. Buon Natale. Ma se posso chiedere sto video Natale. Aiuto. No. Sì tutto che mi chiedeva di commentare. Adesso mi facciamo questo. A te. Ti ho rubato la kill. Appunto sono molto triste da questo. Però. Qua c'è un rosa. Che dobbiamo killare. Che non gli piace molto Natale. Ah come. Scusa non l'ho visto. Mi sta tra l'anno. E io che sto qua a rompere la lana come un handicap. Ah ok. Sì. E' di la spaletta. La spaletta? La scaletta. Sì ma mi ha piazzato i blocchi di lana sopra la scaletta. A parte che c'è un altro che sta ad arrivare mi sa. Ah no. Ah ma sei te che stai andando. Ah ok ok. Vedi che tutto torna. Vedi che tutto torna. Non ci posso andare in base. Tu sei babbo Natale. Quindi. A base di babbo Natale dovete stare segreta no? Basta con sto babbo Natale. No 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 no. Non fai tare. Non fai tare. Non fai tare. Torniamo. Torniamo indietro. Torniamo indietro. Dovevo fare protezione 2. Dovevo fare protezione 2. Ormai questo è qua. No floppa non ti far uccidere. Torna indietro. Così ti fai uccidere. Ok. Questo sta a venire qua. Ok. Vai letto. Facciamo il letto. Sono caduto. La scaletta. La scaletta. No ti dico che cosa fare. Perché sono morto. Allora tu sei lì. Ti fai quello poi dopo ti devi fare. Aiuto. No. No. Ebbene sì raga. La seconda pack è la Lucy Christmas pack. Questa pack. Innanzitutto devo dire che mi piace il font di questa pack. Tipo quello della chat. Anche l'inventario è carino con dei... I cosi là. Oh. Arriva. Arriva. Arriva a distanza. Vai. Ucciso uno. Potevo uccidermi entrambi. Ma... Eh non c'era flop. Eh. Ci sono texture in questa pack. Che tipo ravvivano quelle della vanilla. Tipo il ferro e l'oro sono tipo... Semina quelli della vanilla. Però... Un po' più... Con un po' più di dettaglio. Una cosa che non mi piace... È la gold apple. L'ha fatta bianca. Sì è vero la... La gapple non piace manco a me tutta bianca. Fa schifo. Ma... Aspetta ma questa pack ha lo stesso mirino della scorsa pack. Le spade io le trovo comode per il pvp. Hanno tipo una texture più... Rincorciata. Anche se non si farà letto. Che sa? Ma vedi che... Mazzia... Combata. E' un po' di me che mi ha fatto il letto. Vai. Ma che cosmetico hai per le final kill tu? Ovvio non lo so. Cioè... Ovvio non lo sai. Eh ma perché io... Le compro il pvp. Ho visto il verde che stanno andando nella nostra base. Ma sai cosa ti devo dire? L'azzurro mi suicido. Allora... Aspetta ma andiamo in base degli azzurri. Genio. Io gli rompo il letto così. Troppo tardi ci ho fatto il letto. Però lo kill. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Gli stavo rompendo il letto. E lui ha piazzato due blocchi in faccia a me. E mi ha evitato... Cioè... Mi ha impedito di rompere il letto. Non ci posso credere. Ma sai che... Ora che noto... C'è una cosa... Un dettaglio fatto male di sta pack. I diamanti sono rossi no? Però i blocchi di diamante sono blu scuro. Ebbene sì raga. La terza pack di questo video e ultima è la... Special 16x. Che come dice il nome è basata molto sul ghiaccio. I cuori sono ghiacciati. La hotbar è ghiacciata. E anche la prima pack che ha un mirino diverso da quello di prima. Monotono. Schifoso. No povero mirino. Io non la consiglierei perché è un pc brutale. Molto brutto. Cioè non scrauso ma brutto. Oh il letto è molto basilare vedo io. Aspetta che adesso proviamo a fargli... Uccidilo tu. Fatto. Boh io vado a prendere... I diamanti. Ah no ma i diamanti volevo prendere io. Ma sta mappa è fatta in modo strano. Io pensavo che i diamanti fossero davanti a noi. Allora io ho comprato pure Sharp. E' sembra che adesso devo combattere contro uno che ha la scena amante. Perché non sta a fare più. No. E' sembra che poi lo senti in a letto a tutto finito. Vai 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 ok 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 ok. Perfetto. Ma come l'ho orientato il letto in questa... Mappa. Cosa fai lì cipolla? Ma vai ma... Ma le persone non sanno giocare. No 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 scherzo scherzo scherzo. In questa pack devo dire la Gapple non mi piace. Perché è comunque fuori contesto. Cioè in realtà per il contesto della pack del ghiaccio ci sta anche però boh. Poi la Fireball è la prima Fireball che vedo che non è stata modificata ed è la stessa. Quindi in realtà non so che dire di questa pack. Mi piace l'overlay della lana. Però molte texture sono comunque simili a quelle della vanilla. Cosa che ho fatto? L'occhio, spada, poste armatura... Non so. Aiuto è la seconda Fireball. Cioè ma io dico ma come hai fatto a vedere quella Fireball e fermarsi? Questa è la domanda che mi pongo io. Arriva da te. Dai ma che... Come gioca? Questo video che hai appena guardato ti è piaciuto? Se sì allora probabilmente ti piacerà anche il video a schermo in questo momento. Detto questo ci vediamo. Addio! Addio.